Vicini alla vittoria. Buonasera dal Tg2, è stata la prima giornata delle nuove misure contro il coronavirus. Tutta Italia zona protetta, spostamenti fortemente limitati in tutte le regioni. E intanto il numero totale dei contagiati cresce e supera i 10.000, ma aumentano anche guarigioni e decessi. Chiudono le frontiere con l'Italia sia l'Austria che la Slovenia. Ma facciamo il punto con Simone Trucchetti. 8.500 casi positivi di Covid-19 e sono all'incirca 500 in più. Un numero che non tiene conto però dei dati incompleti della Lombardia, la regione più colpita. Le guarigioni superano quota 1.000 con un incremento di 280 persone negative al virus, ma crescono anche le vittime giunte a quota 631, 168 i decessi nelle ultime 24 ore. In totale i casi sono 10.149. La sanità a Lombardia è ancora sotto forte stress. Al momento sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza ne sono stati gestiti 778. Mentre il coronavirus continua ad espandersi, il nostro paese è sempre più sorvegliato speciale. Austria e Slovenia hanno chiuso le frontiere. Sospesi da sabato prossimo fino al 3 aprile i voli da e per l'Italia di Air France, provvedimenti simili per altre compagnie aeree, tra cui Ryanair e EasyJet, che assicurerà solo quelli per il rimpatrio e gli spostamenti necessari per motivi di lavoro salute. Sospesi i mercati settimanali in Emilia-Romagna. Fino al 3 aprile chiusi i barbieri, parrucchieri e centri estetici in Campania. Stop per attività ambulatoriali non urgenti nelle asle e negli ospedali della Calabria. Non mancano poi le chiusure decise in autonomia dai singoli negozi o dalle associazioni di categoria. Gli studi dentistici apriranno solo per quei casi urgenti. È diventato un caso a Messina, un matrimonio celebrato tre giorni fa con un gruppo di invitati provenienti da Cologno Monzese. La vicenda, assicura la regione Sicilia, sarà segnalata alla prefettura. E per gli ultimi aggiornamenti dalla prefettura...